L'Associazione Ex Consiglieri della Regione Campania e l'Istituto di Cultura Sossietta Scialla hanno consegnato delle targhe agli studenti vincitori e ai rispettivi istituti per il premio Campania Europa 2022 arrivato quest'anno alla sua diciottesima edizione e il premio speciale Sossietta Scialla 2022. La premiazione nella sala Giancarlo Siani del Consiglio regionale della Campania alla presenza del Presidente Gennaro Oliviero. Questa attività, questa azione che fa l'AREC, che è un'associazione di ex colleghi che lavorano quotidianamente per portare avanti il valore delle istituzioni, in questo caso dell'istituzione europea, è una cosa importante. Avvicinare i giovani all'Europa, io credo che questa tematica sia già entrata nell'animo di tanti giovani del nostro vecchio continente. Abbiamo bisogno di fare un passo avanti, che si trasformi quest'Europa in Europa politica, non soltanto economica, non soltanto della moneta. Sei premi speciali sono stati consegnati agli istituti delle cinque province della città di Napoli, risultati vincitori in ragione del maggior punteggio ottenuto dal proprio alunno con una cornucopia in argento. Ascoltiamo Giuseppe Scialla, garante per l'infanzia e l'adolescenza della Campania, e Francesco Bianco, vicepresidente AREC. Pochi sanno che il 2022 è l'anno europeo dei giovani. Io rappresento qui anche l'istituto di cultura Sossietta Scialla, un'insegnante che ha avuto l'idea di portare avanti i valori del manifesto di Ventotene, istituti fondativi dell'Unione Europea. E questo premio vuole essere il premio proprio per chi si impegna a capire, ad avere maggiore consapevolezza degli ideali e dei valori dell'Europa, di trasferirli nella socialità e nell'impegno quotidiano per essere sempre più competenti e per creare sempre di più quella coscienza europea che ci unisce agli altri popoli di nazioni di questa Unione. Credo che mai come in questo momento in cui l'Europa finalmente ha dato dimostrazione per la guerra, ahimè purtroppo che c'è in Ucraina, di essere unita e non è più quella istituzione burocratica di cui si è tanto parlato, credo che gli studenti debbano andare nelle istituzioni, cioè nel Parlamento Europeo, nel Consiglio d'Europa per vedere veramente come si lavora in unità di intende per l'Europa stessa.